Passiamo all'oggetto numero 2, richiesta chiarimenti in merito a quali provvedimenti si intendono prendere per far fronte alla situazione in salubre causata dall'attività dei fonderi e tacconi. Prego consigliere Pastorelli per l'illustrazione. Sì, grazie Presidente. Finalmente parliamo di un tema delicato e molto sentito ad Assise Santa Maria degli Angeli. Va ricostruito un pochino lo scenario. In diverse occasioni sono state avanzate richieste di bonifica dell'area delle ex fonderie Tacconi, sito in Santa Maria degli Angeli, segnalando nelle opportune serie istituzionali preposte le varie problematiche ambientali che scaturivano da un'industria in salube di prima classe, situate a poche centinaia di metri dai centri abitati limitrofi e dalla basilica di Santa Maria degli Angeli e della Porzioncola. Considerato che nel marzo di 2019, su richiesta del Sindaco di Assisi, fu convocato un tavolo tecnico con lo scopo di esaminare la situazione ambientale e sanitaria dell'area delle fonderie Tacconi, al quale parteciparono l'ASL, l'Agenzia regionale a protezione ambientale, il registro di tumori e la Regione Umbria, i rappresentanti del Comitato Prodomarti Francescani, una delegazione di cittadini residenti, gli amministratori delle fonderie e l'Associazione Medici per l'Ambiente. Dall'incontro emerse chiaramente l'esistenza di una situazione preoccupante dal punto di vista sociale ed ambientale che confermò la necessità di redigere un protocollo in collaborazione con ARPA, ASL, il registro di tumori Umbro, di popolazione e l'osservatorio epidemiologico con lo scopo di effettuare controlli al fine di monitorare l'intera area dove l'azienda risulta essere ubicata. Nel marzo 2020, come reso noto, nell'ambito delle ispezioni svolte dall'ARPA sono risultate presenti nelle acque reflue immesse in pubblica fognatura delle quantità non permesse di inquinanti e dannose alla salute. Altresì che nell'emissione atmosfera si è registrato il superamento della soglia di concentrazione di emissione delle polveri, tanto che la Regione Umbria ha inviato diffide riguardanti il mancato rispetto di queste prescrizioni. 30 agosto 2021 il Sindaco di Assisi ha emesso un'ordinanza per fermare i cattivi odori vicino alle fonderie Tacconi, su sollecitazione dell'Aso numero 1. I diversi sopralluoghi che ARPA ha eseguito per il tramite di postazioni di rilevamento delle sostanze organiche volatili posizionate in Santa Maria degli Angeli dal settembre 2020 al gennaio 2021 hanno rilevato che alcune sostanze organiche volatili monitorate abbiano superato i livelli di tolleranza olfattiva indicati da ARPA. Visto poi che con la deliberazione numero 184 del 14 settembre 2021 è stata approvata la mozione sulla delocalizzazione delle ex fonderie Tacconi, Santa Maria degli Angeli, piano di riconversione ambientale e rilancio, intervento della Regione Umbria per riferimento di risorse necessarie che impegnava la Giunta regionale ad avviare un confronto tra le istituzioni di competenza e le fonderie di assisi SPA, al fine di assicurare il perseguimento del connubio migliore tra salute e lavoro. Ciò ricorrendo a tutti gli strumenti comunitari, nazionali e regionali disponibili, incluse le risorse disponibili nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'interesse di tutte le componenti coinvolte. Ricordando inoltre che sempre ad agosto 2021 il sottoscritto aveva dichiarato come la presenza del sito produttivo a ridosso del centro storico cittadino rappresentasse una criticità da risolvere in tempi brevi attraverso l'elaborazione di un serio progetto di delocalizzazione e che connubio salute e lavoro avrebbe dovuto trovare pronta applicazione nella definizione di strategie svolte a salvaguardare le famiglie del centro abitato da fattori potenzialmente inquinanti, garantendo allo stesso tempo il mantenimento dei livelli occupazionali e il rispetto dei canoni qualitativi della produzione. Inoltre nella stessa occasione dichiaravo di aver inoltrato all'ARPA un accesso agli atti per l'acquisizione della documentazione rilevata circa l'eventuale presenza di fattori inquinanti in riferimento all'area interessata negli ultimi tre anni. Fermo restando però che la tutela del diritto alla salute dei cittadini costituisca per noi la priorità da tutelare così come riteniamo vadano incentivate forme di attività economico-produttive che possono incrementare i livelli occupazionali e garantire il benessere dei resilienti. Riteniamo altrettanto certo che al contempo la politica e le istituzioni abbiano il dovere di far rispettare le leggi regionali e nazionali vigenti in materia, nonché le direttive emerse da vari tavoli tecnici sino ad oggi istituiti e svolte. Si prende atto della difficoltà di realizzare la delocalizzazione delle fonderie, come da tempo richiesto. Nell'ultimo periodo sono sempre più frequenti le segnalazioni pervenute di nubi e depositi di cene nell'area interessata, segno di un preoccupante e maggiore livello di inquinamento dannoso per la salute dei residenti, così come testimoniano le foto che ho portato, così come sono maggiori gli odori sgradevoli e rilevati. Io vorrei farvi vedere una foto che circolava sui social dove si vede chiaramente, insomma, magari sarà stata una condizione climatica particolare, però questo si è verificato negli ultimi tempi. Quindi tutto ciò premesso, si interroga la Giunta e l'assessore di riferimento per comprendere se continua allo stato attuale il monitoraggio di ARPA, mediante le proprie postazioni, quali siano i provvedimenti che la Giunta intende adottare per far fronte a tale situazione insalubre. Grazie Presidente. Grazie Consigliere, prego Assessore Morroni per la risposta. Sì, grazie Vicepresidente Fioroni. Collega Pastorelli, la campagna di monitoraggio della qualità dell'area e ambiente rilevata nelle immediate vicinanze delle fonderie di Assisi è stata svolta da ARPA Umbria tramite la propria postazione mobile in attuazione del protocollo richiamato dai consiglieri interroganti nel periodo che va dal settembre del 2020 al maggio del 2021. Al termine della campagna ARPA ha trasmesso al Comune e all'Aslo un rapporto tecnico rilevamento qualità dell'area e località Santa Maria degli Angeli Assisi contenente il quadro completo delle misurazioni delle sostanze rilevate da cui non emergono criticità problematiche tali da rendere necessario lo svolgimento di una nuova campagna di monitoraggio della qualità dell'area e ambiente tramite postazione mobile di ARPA Umbria. Successivamente alla rimozione del mezzo mobile avvenuta nel mese di maggio del 2021, ARPA ha effettuato 37 sopralluoghi nell'area circostante e l'installazione, di cui 16 a seguito di segnalazioni pervenute da parte dei cittadini, 21 su iniziativa del personale ARPA, finalizzate ad accertare la presenza di disturbi derivanti dall'attività. ARPA ha inoltre svolto tre campionamenti dell'acqua e reflui industriali e due campionamenti ai punti di emissione in atmosfera. Le non conformità emerse a seguito degli accertamenti richiamati sono state oggetto di provvedimenti di diffida emessi dal Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione ed Autorizzazione Ambientale. Per i restanti mesi dell'anno 2023 restano ferme le attività di controllo previste dal Piano di Ispezione Ambientale, approvato con delibera della Giunta regionale dal numero 1308 del 22 dicembre del 2021 e del conseguente programma delle visite ispettive per gli anni 2022-2024, approvato con determina dirigenziale la 13.516 del 30 dicembre del 2021. Rientrando le attività di fonderia nell'elenco delle industrie insalubri di cui a regio decreto 1265 del 1934, seconda classe, restano ferme le competenze del Sindaco da esercitare sulla base di comprovate e documentate esigenze di tutela della salute della popolazione interessata. La Giunta regionale non può che accogliere con favore l'ipotesi di delocalizzare l'insediamento produttivo, fonte di innegabili disagi ambientali per la popolazione residente nelle immediate vicinanze e di significativo impatto paesaggistico sui beni monumentali di Santa Maria degli Angeli. Si tratta di una ambiziosa e complessa operazione di rigenerazione urbana di competenza del Comune di Assisi, pienamente legittima come recentemente confermato dal Tarre Umbria, che ha respinto il ricorso amministrativo presentato dal titolare dell'attività contro un permesso a costruire nuovi impianti, in particolare Silos, rilasciato dall'Ufficio Comunale in ragione di una specifica previsione del nuovo piano regolatore comunale per una durata limitata a soli cinque anni. Ovi il piano di delocalizzazione richiesto dal Comune fosse presentato dalle fondere di Assisi sulla base di concrete ipotesi di fattibilità tecnica ed economica, non mancherà di certo il supporto e il sostegno dello risultato regionale. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Pastorelli per la replica. Innanzitutto volevo ringraziare l'Assessore per l'esaustiva risposta, evidentemente questa interrogazione ha un carattere comunque di equilibrio, un connubio tra la salvaguardia dei posti di lavoro, però altrettanto è primaria la salvaguardia della salute dei cittadini per quanto ci riguarda. Le criticità ci sono, non ne nascondiamo, io non l'ho mai vero ma abito a 500 metri quindi le posso verificare tranquillamente sulla mia pelle, le assicuro che non sono secondarie, una certa attenzione va fatta. Lei ha ricordato Assessore le competenze dell'amministrazione comunale di Assisi, è evidente che l'unico atto, perché mi sembra di aver capito che non c'è nessuna presentazione di ipotesi di localizzazione da parte dell'amministrazione comunale assieme alle conterie, quindi prendo atto anche di questa risposta, l'unico atto che fece l'amministrazione comunale, il sindaco Stefania Proietti fu, lei si ricorda bene, quando fece quel provvedimento, ma stranamente a ridosso delle elezioni comunali e poi è risultato inefficace dal punto di vista legislativo. Io penso che le cose vadano affrontate con serietà, quindi accolgo favorevolmente la disponibilità della regione ad affrontare il problema e ci faremo carico anche per il tramite dei consiglieri comunali, purtroppo siamo minoranza ad Assisi, ma per sollecitare l'amministrazione magari nel provvedere a un piano che dia respiro e anche magari qualche speranza sia ai cittadini che purtroppo subiscono e all'azienda che comunque deve poter essere garantito il proseguo dell'attività in assoluta sicurezza per se stessi, ma soprattutto per la salute dei cittadini. Grazie. Ora oggetto numero 7, consigliere Meloni interroga, risponde l'assessore Coletto, atto 1811, prego. Grazie Presidente. Questa interrogazione ovviamente fa parte di un progetto un pochino più ampio che riguarda la salute della donna, su cui noi siamo tornati più volte durante le nostre assemblee legislative, ragionando su quelle che sono le patologie anche invalidanti che colpiscono le donne e che fanno parte di una famiglia di disturbi molto diffusa, tra cui appartiene l'oggetto dell'interrogazione di oggi che è quella della vulvodinia e della neuropatia del cubendo. Ci tengo a precisare, al di là della lettura dell'interrogazione che non farò, che il 15% delle donne è colpito da questa patologia, che ci sono due proposte di legge, una è arrivata alla Camera il 28 di marzo e un'altra al Senato il 13 di aprile e voglio ribadire, proprio parlando di questa tematica, anche la proposta di legge che abbiamo presentato noi sull'endometriosi, perché fa parte di quella famiglia di disturbi molto diffusa e anche invalidante, che colpisce purtroppo il 15% delle donne. Ci tengo a ribadire che sarebbe importante soprattutto la diagnosi precoce in questi casi. Ieri abbiamo avuto la fortuna di partecipare ad una bellissima iniziativa organizzata dal gruppo consigliare delle Marche, dove appunto si parlava dell'importanza del sostegno, supporto e anche della riqualificazione dei consultori, anche come luoghi, diciamo, deputati a arrivare in anticipo sulla diagnosi di alcune patologie, tra cui appunto queste. Il consultorio pubblico può essere davvero un punto, un primo punto di contatto per le donne che ancora, diciamo, non l'hanno scoperta. Su questo tipo di patologie, la vulvodinia, ma anche l'endometriosi, siamo in ritardo nella diagnosi dai 4 ai 5 anni, quindi spesso anche nelle donne in giovane età quando arriva purtroppo la diagnosi già sono stati manifestati tanti sintomi e è diventata quasi una patologia invalidante. Che cos'è che si chiede con le nostre proposte fatte insomma anche da parlamentari e senatori? Quello che sia riconosciuta come una patologia e che possa far parte di quel livello di assistenza pubblica che, diciamo, dà gratuità a tutto il tipo di terapie che poi queste donne sono costrette a fare e che incidono nell'arco della vita della donna da 20.000 a 50.000 euro. Quindi oggi molte di queste si rivolgono e si appoggiano all'associazione di volontariato, ma non possono bastare come abbiamo detto più volte e quindi quello che oggi noi abbiamo chiesto insomma all'assessorato è se appunto si intendono attivare anche nelle sedi opportuni, anche con i referenti in Parlamento e in Senato per approfondire il tema a tutti i livelli e quindi portarlo avanti e far sì che anche nella regione Umbria possa essere una di quelle regioni virtuose che inserisce nei LEA. Se diciamo si possono appunto fare dei cronoprogrammi o per lo meno dei progetti per il futuro e anche un tema a me molto caro che non riguarda solo la vulgodinia ma è anche quello dell'informazione, della formazione degli operatori che anche in questo caso è estremamente importante e anche di una campagna di sensibilizzazione nelle scuole, nei consultori, nel mondo associativo, in quello dello sport, in tutti quei luoghi che sostanzialmente vedono anche i giovani e le giovani protagoniste. Grazie. Assessore Coletto. Grazie Presidente. Come già ricordato appunto dal consigliere e dalla consigliera, in Parlamento è stato presentato un disegno di legge che si prefigge appunto di avviare un riconoscimento della vulgodinia come malattia invalidante e al contempo promuovere in vita per la diagnosi e la cura di essa e delle patologie del pavimento perdico al fine del riconoscimento e l'inserimento nei LEA. I LEA sono appena stati rinnovati, appena, sono stati rinnovati da poco, diciamo al 2017 e sono stati riconosciuti proprio quest'anno i nuovi livelli essenziali di assistenza perché non erano finanziati. Quindi io credo che sia assolutamente ragionevole promuovere un percorso di riconoscimento e di inserimento in LEA nell'ambito della Commissione Salute e io mi renderò parte dirigente per proporlo alla Commissione Salute, che si attiverà per inserire l'argomento nell'ambito dei lavori della Commissione stessa e avviare per quanto possibile l'iter previsto per l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza. La possibilità di attivare un percorso a estranea, prima del riconoscimento di una nuova condizione morbosa nell'ambito dei LEA, merita l'attivazione di un gruppo di lavoro multidisciplinare a livello regionale per fare un'analisi di contesto e definire l'iter diagnostico-terapeutico da attivare per poi valutare la necessità e la sostenibilità di un percorso a estranea. Pare chiaro che quando si attiva un percorso di analisi, di definizione e riconoscimento di una condizione clinica, sono comprese anche le campagne di informazione, sensibilizzazione e percorse formativi a molti livelli. Io parterei ad esempio, sono assolutamente d'accordo con associazioni, con il coinvolgimento a tutti i vari livelli, ma io credo che le sentinelle in questo ambito non siano proprio i medici, i medici in generale, che devono essere inevitabilmente collegati con gli specialisti e di conseguenza fornire in prima battuta quelle che sono le informazioni necessarie e sufficienti per intervenire alle primavisaglie di queste patologie. Grazie. Consigliere Meloni per la replica? No, ha posto così. Ultima question time, quindi invito poi i consiglieri a prendere posto, interroga atto 1812 il consigliere Bori, giusto? Che è il primo firmatario, risponde l'assessore Fioroni. Prego consigliere. Grazie Presidente. L'interrogazione è sul rifinanziamento della legge regionale per la diffusione del commercio eco e solidale in Umbria. L'Umbria è stata la prima regione nel 2007 a votare e approvare questa legge. Durante i progetti portati avanti sono stati frutto anche del finanziamento che la regione forniva insieme al lavoro delle realtà associative e organizzative sul territorio. A partire dal vostro bilancio 2021-2023 ha deciso di non rifinanziare questa legge, tutto questo è una scelta della giunta T6 e realtà come altro cioccolato, ma anche come tante espressioni nei vari territori rischiano di saltare. Il mancato finanziamento è stato oggetto di numerosi atti. Durante il bilancio abbiamo proposto delle modifiche per tornare a finanziare questa legge, abbiamo presentato interrogazioni sia scritte che orali. Noi oggi siamo qua perché le organizzazioni hanno invitato il 18 maggio la Presidente della giunta, l'assessore che ora parlerà e tutti i consiglieri regionali a rifinanziare la legge. Questo atto è arrivato a tutti noi e siamo qua a chiederne conto alla giunta sui propri intendimenti, se si intende continuare a non finanziare una realtà legata a un'idea di commercio più equo e giusto oppure se ha cambiato idea e intende tornare a finanziare questa legge. Grazie. Grazie Presidente. Io risponderò come ho risposto all'ultima interrogazione, cercando di evidenziare come la legge sul commercio equo e solidale del 2007 faceva riferimento a un contesto storico molto diverso da quello attuale. Viviamo un'epoca, una stagione della storia in cui i casi di sfruttamento sono sempre più individuabili e grazie anche proprio alla multicanalità e social media ogni comportamento scorretto è più trasparente, punibile e sanzionabile dai poi consumatori che devono fare scelte consapevoli di consumo. Abbiamo assistito nella società moderna a una crescente movimento di sensibilizzazione sui diritti umani, sulla sostenibilità ambientale che ha spinto necessariamente l'impresa ad assumere una posizione di maggiore responsabilità sociale come condizione di sopravvivenza per il mercato. Le aziende sono sempre più consapevoli della necessità di garantire le loro catene di approvvigionamento e che queste siano etiche e liberi da fenomeni di sfruttamento. Non a caso oggi le aziende, le grandi aziende hanno introdotto certificazioni di filiera come quella della SLG che riguardano gli aspetti ambientali, sociali e di governance e che garantiscono quindi anche standard particolarmente elevati in termini di giustizia sociale e responsabilità aziendale. Tramite tali certificazioni si impegnano a rispettare rigorosi criteri di sostenibilità, di inclusione sociale, di trasparenza. Quindi noi riteniamo che fondamentalmente il nobile principio che stava alla base della legge che era stata introdotta nel 2007 sia un po' avvenuto a meno. Ciò non vuol dire che bisogna abbassare la guardia perché nonostante i progressi fatti esistono ancora sfide da affrontare nel commercio. Per quanto riguarda gli eventi e manifestazioni possono anche trovare in altri canali di finanziamento quello a cui molti manifestazioni si appoggiano e su cui i fondi regionali sono ambientati la loro fonte di sostentamento tenendo conto che le risorse sul bilancio dello sviluppo economico sono limitatissime, tolte i fondi FES che non possono venire utilizzati a tal fine e dovremmo fare delle scelte per finanziare questa legge di togliere risorse al mondo del commercio, dell'artigianato e anche della cooperazione. Per questo motivo la risposta rimane in questa data in precedenza non esistono le condizioni per rifinanziare questa legge. Prego Consigliere Bori per la replica. Grazie Presidente. Logicamente non sono soddisfatto e non ritengo che non ci siano le condizioni per rifinanziare questa legge ma ritengo che non ci sia la volontà di rifinanziare questa legge. È un concetto completamente differente. Le condizioni ci sono, non c'è la volontà. Le organizzazioni legate al commercio ecosolidale non promuovono solo eventi a cui accedere tramite bandi o finanziamenti puntuali ma promuovono una diversa idea di commercio e di produzione. Ora, che ci siano più denunce di irregolarità e che le questioni legate ai diritti umani, ai diritti dei lavoratori, alle questioni ambientali siano al centro dell'agenda politica è vero. Certo è vero, ne esistono di più ma esistono sempre più forme di sfruttamento e di irregolarità diffuse, non si sono ridotte, sono anzi aumentate. L'idea che l'Umbria, che è stata una delle prime regioni ad approvare una legge sul tema, si ritiri completamente ed esca dal panorama internazionale per definanziare una realtà come questa, è un'idea che dimostra qual è l'agenda della destra che voi rappresentate e su cui noi non concordiamo. Grazie. Grazie.